Il sole è nuovo ogni giorno. Bentornati carissimi qui sul canale del Dottor Sedrei e buon lunedì, il primo giorno di questa seconda settimana dell'avvento filosofico. La frase di oggi è una famosa frase di Eraclito, nonché una delle mie frasi preferite, che adopero molto spesso. La prima volta che la sentii ce la recitò una nostra professoressa di greco, che ci confidò addirittura che aveva conquistato suo marito grazie proprio a questa frase. E' inutile dire che anch'io la adopero molto spesso con il gel di sesso, però con risultati alterni. Però non siamo in una rubrica dedicata a come rimorchiare con le frasi in greco, quindi direi di proseguire con il contenuto della frase di Eraclito. Ed è una frase che ci ricorda come la vita sia una continua mutazione, un continuo cambiamento. Il sole che vediamo oggi non è lo stesso di ieri, anche a livello fisico in effetti non aveva tutti i torti, perché la luce emanata dal sole cambia continuamente e quindi mostra continuamente il suo differente modo d'essere. E allo stesso modo non solo il sole cambia, ma tutto ciò che tocca. Quindi cambia il sole che noi guardiamo di giorno in giorno e cambiamo noi che guardiamo a quel sole cangiante. Ebbene, il mondo cambia continuamente, però ci tengo a sottolineare che una cosa magari non cambia. Per quanto il video di domani sarà un video nuovo e saremo nuovi anche noi, sicuramente non cambierà il fatto che quel video ci sarà. Dunque io vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo domani.